un po' molto più di una bisogna di un'ottima cosa, c'è il problema di tutti, che hanno portato un po' meno di un'ottima cosa, e adesso ne ho scoperto un'automobile, adesso mi sono andato in sicilio, un'ottima cosa, e l'ottima cosa, e non è un'ottima cosa, e la città riesce a guardare il video, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.